Al di là del risultato che oggi conta poco, credo che ieri la mia squadra ha fatto quello che avevamo preparato in questi giorni, abbiamo lavorato bene duramente perché comunque tra pre-ritiro e ritiro abbiamo fatto 20 giorni intensi di duro lavoro dove la squadra ha risposto benissimo sui principi di gioco, su quello che chiede l'allenatore. Siamo sicuramente contenti, ho concesso due giorni di relax meritati e adesso da martedì prepariamo la partita di Coppa Italia che si va a lavorare sulla settimana normale. Questa è la seconda volta che parto all'inizio, dopo Caserta dove sono riuscito a finire l'anno, io credo che questa squadra insieme alla società l'abbiamo costruita come volevo, nel senso che anche nelle caratteristiche soprattutto umane, da quello che voglio dai miei calciatori. Io credo che questa squadra abbia tutte le potenzialità per poter fare un campionato importante, poi è normale che il campo ci darà delle risposte, noi però dovremmo lavorare duramente perché ho fatto capitare nella squadra quello che voglio, cerco tutti i giorni di farglielo capire sempre qualcosina in più e con il lavoro credo che possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Ma oggi la prima cosa da fare è ringraziare la società perché ci ha permesso di fare un grande ritiro, di fare un grande mercato e di prendere giocatori funzionali e giusti a quello che è il mio credo calcistico. Grazie. Grazie.